Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con G-Data, Total Protection 2013, come vedete abbiamo un aggiornamento anche della grafica, abbiamo questa grafica appunto dorata, anziché Total Care, come si chiamava nel 2011, 2012, eccetera, è stato preferito un cambio del nome, in questo caso Total Protection, così da uniformarsi un attimino allo standard di settore. Sia chiaro che in questo caso G-Data con la nuova gamma di prodotti, appunto la versione 2013, con Antivirus, Internet Security e Total Protection, che dal basso verso l'alto vanno quindi a caratterizzarsi nei colori bronzato l'Antivirus, argentato l'Internet Security, dorato il Total Protection, vanno a identificare facilmente il grado di protezione. E' ovvio che il grado di protezione ottimale sia rappresentato proprio dal Total Protection in questione. Il box, come noi generalmente tentiamo sempre di avere, è compatto, procediamo a breve nello spacchettamento. Vi ricordiamo che la versione in questione, quando ve la portate a casa, avete la protezione per tre computer, a differenza dei due che invece sono inclusi nelle altre due versioni, quindi Antivirus e Internet Security. In questo caso avete tre PC protetti per un anno e due Android, quindi avete la soluzione più completa anche per numero di dispositivi. In questo caso infatti ne proteggete cinque. Negli altri casi, quindi ripeto, Antivirus, Internet Security 2013, sia chiaro, ne proteggete tre, due computer e un telefonino. In questo caso il prodotto cambia nome, passa da Total Clear a Total Protection, tuttavia la bontà rimane immutata. Visti i risultati raggiunti da G-Data nel test di AV Comparatives, un sito ultranoto e decisamente dettagliato nell'analisi di Antivirus, quindi non è che lo diciamo noi che potremmo anche essere gli ultimi poveri mentecatti rimasti sulla faccia della Terra, ma lo dice AV Comparatives che la soluzione G-Data è il top di gamma per quanto riguarda la protezione dei sistemi informatici. In questo caso parliamo espressamente della versione per computer. Sia chiaro che il box di vendita è una soluzione possibile per l'acquisto, potete comunque procedere all'acquisto anche scaricandovi la versione Trial dal sito web appunto di G-Data e procedere con l'acquisto diciamo quindi totalmente digitale, comprandolo online, così da non avere altro che un codice che ovviamente ricevete per posta elettronica. Sia chiaro che tutto ciò che vi mostriamo è quanto troverete poi anche voi se procedete con l'acquisto della versione boxata, tuttavia nello scaricamento della versione digitale avete il vantaggio di avere la versione sicuramente più aggiornata. Se lo comprate boxato poi dovrete appunto connettervi alla rete per avere la versione più aggiornata poiché appunto il programma in questione si andrà a pescare sul server di G-Data la versione più aggiornata. Quindi avrete diciamo questa come differenza essenziale tra la versione boxata, quella che vi abbiamo mostrato noi in questo istante, e la versione totalmente digitale che scaricate direttamente dallo store di G-Data. Quello che vedete è il contenuto della confezione di G-Data Total Protection, provate quindi il manuale, la pubblicità che vi ricorda che appunto G-Data funziona anche per le aziende, l'Android come memo per il fatto appunto che con l'acquisto del pacchetto avete anche due Android protetti e il disco di installazione per chi appunto ama collezionare il supporto di installazione, come in questo caso appunto della suite di protezione informatica, oppure perché gradisce avere appunto la versione su supporto fisico, perché magari in Italia ce ne sono purtroppo tanti che sono soggetti appunto a un digital device particolarmente vergognoso, lasciatemelo dire, che non permette loro appunto di scaricarsi con facilità pacchetti software dalle dimensioni comunque contenute come questo G-Data Total Protection. Per tutti questi G-Data ha una soluzione, in ogni caso l'unboxing al momento è concluso, io vi ringrazio dell'attenzione, a breve faremo anche una nuova demo software, a suo tempo fu fatta su Total Care, quindi a breve lo faremo anche su Total Protection, vedremo un attimino come si comporta, come si può configurare, se mantiene come immagino le promesse di Total Care sarà un software sufficientemente affidabile da poterlo installare e lasciare in esecuzione esiste, quindi senza preoccuparsi di personalizzarlo in particolare modo. È ovvio che se mantiene come detto le stesse promesse che furono mantenute poi da Total Care sarà poi personalizzabile nei minimi dettagli. In ogni caso vi rimando al sito web formabiles.info, vi invito a seguirci attraverso quel portale di riferimento, così appunto per rimanere aggiornati, cosa che vi risulta facile anche se ci seguite sui vari canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, li trovate linkati in fondo al video. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto presto da Giuseppe Ragozzino. Grazie.